Cambiamenti climatici? Effetto serra? Inquinamento da CO2? Nulla di tutto ciò e ne abbiamo la conferma semplicemente alzando gli occhi al cielo. Che cosa sta avvenendo nella quasi totale inconsapevolezza dei cittadini? Chi sta manipolando il clima e perché? Queste sono le domande che il Comitato Nazionale Tankerenimi ha iniziato a porre di fronte all'opinione pubblica dal 2005 ad oggi. Milioni di euro fuori bilancio vengono sperperati ogni anno nell'ambito di un progetto clandestino ed illegale di geoingegneria suggerito nel 1997 dal fisico nucleare Edward Teller con il paravento del contrasto all'effetto serra, ma adottato da tutti i paesi aderenti all'ONU che nell'ambito delle recenti tecnologie radar, si veda il progetto RFMP, disperdono in atmosfera composti ed elementi come il titanato di bario, il trimetil alluminio, il manganese, il litio, il quarzo, manipolano il clima ed il tempo mediante l'uso di microorganismi geneticamente modificati come il batterio pseudomonas e siringe ed il batterio escherichia coli, impiegati come nuclei di condensazione per indurre le precipitazioni, mentre diffondono polimeri igroscopici per ridurre l'umidità atmosferica in zone specifiche, provocando la siccità. Osservate, che cosa sono quelle scie che offuscano il cielo? Non si tratta di scie di condensazione, ma del risultato di composti che assorbono l'umidità e che aumentano la conduttività dell'atmosfera. Vengono dispersi a quote differenti, sia da aerei militari, sia da bilivoli commerciali. Il risultato di tutto questo è l'innalzamento delle temperature, effetto serra indotto artificialmente, la scomparsa delle formazioni nuvolose naturali, la diminuzione delle precipitazioni in talune aree e le devastanti inondazioni in altre, la contaminazione dell'ambiente. È perlomeno sospetto il silenzio e la reticenza delle istituzioni e dei medi ufficiali quando dovrebbero rispondere alle legittime domande di chiarimento per opera dei cittadini che via via si sono adoperati nel tentativo di ottenere l'interruzione delle attività di aerosol clandestine. Per altro, l'aeronautica ammette in modo indiretto di essere al corrente di queste operazioni. I militari infatti prevedono con definizioni quali innocue velature o nubi alte e sottili il passaggio a bassa quota per opera di aerei intenti ad oscurare il cielo con composti finemente nebulizzati e che tutto sono tranne che scie di condensazione ad alta quota. Le foto ed i filmati dimostrano che si tratta invece di scie rilasciate spesso alla quota dei cumuli, e cioè non oltre 2.300 metri, dunque con livelli di temperatura superiori allo zero, non adatti alla genesi del fenomeno della condensazione. Gli effetti sul tempo causati da velivoli senza livrea, senza contrassegni identificativi ed invisibili ai radar sono preannunciati nei servizi meteo con largo anticipo. Ciò dimostra che le massime autorità nazionali sono al corrente di quanto avviene nei cieli d'Italia. Diversi comitati cittadini si sono nel tempo mobilitati, nello devole intento di chiedere verità e chiarezza, ed è a tutti coloro che hanno a cuore la salute del pianeta e della popolazione che ci rivolgiamo affinché ognuno dia il suo contributo. Ricordo ancora quanto affermato in precedenza, e cioè le modalità di irrorazione in presenza di alta pressione sono sensibilmente diverse dal solito, privilegiando passaggi a quote superiori e quindi non visibili e con scie di tipo non persistente. Basta osservare la nebbia di ricaduta all'orizzonte. Gran parte delle attività sono concentrate durante le ore notturne, a cominciare dai primi minuti di oscurità, con frequenti passaggi a bassissima quota anche in formazione oppure in fila indiana. Alla mattina ci si ritrova già con la completa assenza di nuvolosità normale e con la classica ovattatura all'orizzonte. Questa è la dimostrazione che gli elementi igroscopici sono sempre presenti ed altronde basta osservare i dati delle radiosonde per averne la conferma. Le operazioni non si sono mai interrotte, sono solo cambiate le tecniche e si sono evolute le modalità di occultamento. Negli ultimi tre anni gli aerei che irrorano composti di cui si è già ampiamente parlato, tra questi vi sono anche elementi biotecnologici, usano spesso composti che non persistono che pochi secondi, comportandosi come le fantomatiche scie di condensazione. Di questo spiacevole risultato dobbiamo ringraziare la non più corretta ed aggiornata cassa di risonanza che da anni parla di scie persistenti come unica caratteristica per le scie chimiche. Nulla di più errato, queste scie persistenti vengono ora usate più raramente, con una percentuale durante il mese del 7-10%, per il resto dei giorni vengono irrorate sostanze molto più assimilabili alle scie di condensa, ma che non lo sono. Azione, reazione e dissimulazione. Allora come distinguerle? Molto semplice, il cielo appare ovattato, seppure tende a mantenere una parvenza di azzurro pallido e, particolare importantissimo, la visibilità è ampiamente ridotta. A distanza di poche centinaia di metri e soprattutto in corrispondenza del sole si noterà una densa foschia. È la nebbia chimica di ricaduta. Inoltre, le scie non persistenti apparentemente di condensa stanziano alle stesse quote dei cumuli. Chiaro quindi che si tratta di scie chimiche. Non cadete nella trappola.